Si avvicina San Valentino ed è il momento di parlare di baci nel mondo del cinema e delle serie tv Ma questo video è diverso dal solito Non voglio parlarvi di scene emozionanti, strappalacrime, tristi No, parliamo dei retroscena Di aneddoti divertenti che riguardano tutti questi baci Prima di dare il via non dimenticate di seguire Screen Week Sia qui su YouTube che sugli altri social Prendiamo ad esempio uno dei baci più iconici Quello tra Mary Jane e Spider-Man Un bacio talmente famoso d'essere stato ripreso più volte Addirittura in una scena di DLC Ecco, quel bacio per Tobey Maguire fu una vera e propria tortura Perché? Perché l'acqua gli stava colando sul viso Rendendo davvero difficile respirare E quando Mary Jane, in realtà Kirsten Dunst Gli mise la maschera all'altezza del naso Non riusciva più a respirare In più, durante il bacio non poteva respirare con la bocca E l'unico modo che ha trovato per prendere fiato È stato quello di cercare di respirare con i lati della bocca Un'impresa davvero impossibile Il risultato poi è stato ottimo Ma Maguire non ne ha un bel ricordo Ricordate invece i baci tra Katniss e Gale Nella saga di Hunger Games? Jennifer Lawrence aveva il vizio di mangiare qualcosa di puzzolente Prima di dare questi baci Così da rendere questi momenti più divertenti con le sue costar Ma sembra che Liam Hemsworth non abbia apprezzato questa scelta Definendo quei baci una vera e piccola tortura Parlando di retroscena Non possiamo non citare Sadie Sink Che in Stranger Things interpreta Max Mayfield L'attrice appena adolescente ha dovuto dare il suo primo bacio proprio sul set Pensate l'attenzione di dare il proprio primo bacio di fronte a un'intera troupe Composta da decine di persone che ti stanno osservando Il bacio è quello della scena del ballo d'inverno E l'attrice ha rivelato di aver vissuto il tutto con un po' di nervosismo Anche perché la scena gli è stata svelata poco prima di girarla Sadie Sink ha comunque detto di ricordare il tutto Parlandone oggi Con un sorriso Ma il bacio più divertente è avvenuto lontano dalle scene Ed è quello tra Ryan Reynolds ed Andrew Garfield Per parlarne dobbiamo tornare indietro nel tempo Ai Golden Globe del 2017 In cui i due sedevano allo stesso tavolo Ryan Reynolds era candidato come miglior attore in un film commedia o musical E aveva fatto una scommessa con Andrew Garfield Nel caso in cui avesse vinto avrebbe baciato lui Invece di baciare sua moglie e Blake Lively Garfield ha raccontato che il piano era quello di sorprendere tutti Reynolds ci sarebbe avvicinato Avrebbe fatto finta di baciare Blake Ma poi avrebbe dato un bel bacio a Andrew Reynolds poi non vinse Vince l'altro Ryan Gosling Che era in concorso per La La Land Garfield e Reynolds decisero comunque di baciarsi E rubarono la scena Scatenando l'ilarità generale Una delle reazioni migliori l'ha avuta Emma Stone Che ha visto il video poco dopo E si è davvero divertita Mi raccomando mettete un like se il video vi è piaciuto E non dimenticate di seguire Screen Week Sia qui su Youtube Che sugli altri canali social Ciao a tutti